Penso che arrivati a questo punto del campionato, la Coppa Italia per noi sia un ottimo banco di nuova per affrontare i play-out. Cercheremo di affrontarli nel miglior modo possibile e questa Coppa Italia ci è servita tanto per trovare soluzioni diverse sia in difesa sia in attacco in vista dei prossimi impegni che sono quelli veramente importanti del campionato.